punto numero 4 sviluppare uno stile personale vi faccio una domanda secondo voi perché palladino è il bassista tra l'altro bassista britannico che lavora di più in america ma a parte questo è il bassista che da oltre 30 anni risulta essere sempre sulla cresta dell'onda è un punto di riferimento per tutti quanti palladino ha studiato sicuramente giaco ha ascoltato gemerson ha preso tutto quello che c'era di ottimo nel suo periodo ne ha fatto una fusione e ha creato uno stile personale mantenendo diciamo il focus su alcuni punti la versatilità palladino può suonare nel disco di gigi d'alessio come il disco di di angelo può suonare nel disco di john mayer e nel disco di paul young può attraversare diversi stili e nel fare questo diciamo passaggio da uno stile a un altro mantiene sempre uno stile personale che è fatto di un suono sempre molto concreto sempre molto funzionale se ci fate caso palladino non è un bassista che viene considerato un solista però se vuole ha anche quello ha un ottimo suono sullo strumento è personale nello stile è personale nei film è riconoscibile ma comunque è sempre a servizio della canzone quindi lui ha fatto il percorso ideale che dovremmo far tutti prendere quindi da quello che è stato il percorso diciamo quello che da piccolo sicuramente l'ha influenzato come pastorius gemerson e tanti altri fondere tutto in quello che la sua musicalità e creare un marchio creare un suono e creare un musicista che da più di trent'anni viene considerato e viene richiesto in tutto il mondo